Dopo l'esordio vincente in campionato di una settimana fa contro Schio, avversario in finale lo scorso anno, il Kras torna al Palamazzola per la sfida contro il Braco Geas Sesto San Giovanni, che il Kras la scorsa stagione eliminò in semifinale. Avversario tosto oggi come allora, tanto da rischiare di strappare una vittoria importantissima ai danni di un Kras che paga le fatiche di Coppa e che all'inizio cede passi e lucidità alla quadrata compagine di coach Montini. La idea che si era messa molto male, avevamo delle grosse difficoltà perché Sesto l'ha giocata bene, l'ha interpretata bene e ci ha messa in difficoltà. Noi abbiamo fatto una fatica incredibile a ritrovare un attimo il filo del gioco e soprattutto la difesa. Senza Greco e Maoni, ancora infortunati, il Kras si affida alle penetrazioni e all'ottimo stato di forma di Coden che sblocca il risultato. Ma Sesto ha una Sammerton in più che a tre dalla fine del primo quarto porta in vantaggio le sue di quattro lunghezze. In campo nel Kras c'è anche Chiavone, sei punti a referto nella prima metà di gara, a Bilenieri in Balzi, mentre Ballardini tarda ad entrare in partita. Alla fine del primo parziale i due punti di vantaggio, 18-20 per Sesto, sono meritati. Per secondo parziale la solfa non cambia e le ospiti sembrano avere ancora una marcia in più rispetto al Kras. Sammerton continua a pungere mentre Zanoni e Eini, sotto canestro, e dalla lunga distanza giocano una gara attenta e precisa. Il Kras è in difficoltà e il distacco cresce. Sesto trova il massimo vantaggio a metà del periodo sul 28-37. I liberi di Dacic fissano il punteggio sul 30-37 con cui le due squadre vanno a riposo all'intervallo lungo. Nel secondo tempo Ricchini sceglie la purezza di Sottane e Gianolla insieme, l'irruenza di Sicardi e l'esplosività di Goden e Vaughn. Parte bene però ancora Sesto, che allunga con Zanoni, subito dietro e rompe sotto canestro, la forza fisica dell'americana che porta a meno 8 lo svantaggio. C'è comunque poca precisione nel Kras, che sfrutta le piccole per penetrazioni importanti e precise, veri Gianolla, che prima va a canestro e poi induce le Lombardi al fallo sul servizio per Vaughn. Dalla lunetta il centro americano sale in doppia cifra e riduce il distacco a meno 4. E lei l'arma in più nel terzo parziale, quando riacciuffa la penetrazione di Sammerton e guadagna un altro fallo prezioso. Ancora Vaughn infila un ottimo contropiede orchestrato da Capitan Sicardi, 42-44. Il Kras sembra avere la testa giusta sul finale di parziale, ma il primo fallo dell'americana sotto canestro porta lunetta a Zanoni, che non sbaglia, 42-46 a minuto e mezzo dalla fine. L'americana è comunque in forma strepitosa e infila il gioco da tre sul successivo capovolgimento di fronte. Il Kras nelle sue mani, a 53 secondi dalla fine, appoggia la palla del 46 pari. Il fallo di Sottana però riporta lunetta a Zanoni, che fa 1 su 2, e permette alle sue di chiudere in vantaggio la terza sirena, 46-47. L'ultimo periodo si apre con il Kras, che trova il primo vantaggio sulla bella tripla di Gianolla, dopo poco più di due minuti. Dacic allunga sul più 4 e sesto si perde definitivamente. Sul 53-49 a 3-40 dalla fine, Richini chiede a Vaughn di scrivere la parola fine inserendola al posto di Giauro. Il finale però concitato, scritto prima da Godin, 1 su 2 dalla lunetta, e poi da Ballardini, che invece fa bottino pieno raggiungendo la doppia cifra. Sesto non si arrende a 1-3, trova il canestro con Alvarsson e poi fa correre qualche brivido sulla schiena di Richini ancora con Sammerton. In mezzo però ci sono due liberi fondamentali di Godin, che chiude la sua partita increscendo, andando a subire fallo e realizzare i due successivi. Inutile la tripla ancora di Alvarsson, perché poi Ballardini subisce fallo, va in lunetta e chiude i conti sul 61-56. Per il Kras, seconda vittoria di fila in campionato, la terza consecutiva in una settimana. In tutto volevo dire, che tengo a che venga rimarcato e fatto di scusarmi col pubblico, perché a fine partita ho portato via la squadra. Perché avevo delle comunicazioni, diciamo, tecniche, urgenti e importanti. Sicuramente non succederà più. La squadra a fine gara sarà sempre a disposizione loro. Anche perché sono quelli che ci danno la spinta, ci danno sempre qualcosa in più che ci permette di recuperare anche partite come quella di stasera. Quindi, ripeto, il pubblico ci ha permesso di recuperare, perché nel momento di grossa difficoltà, che potremmo anche lasciarci andare, ci ha dato quella spinta nel terzo quarto che ci ha permesso di riprendere in mano la partita, soprattutto di riprendere l'inerzia della partita.